delle tante norme di cui stiamo parlando. Per questo io mi sento in conclusione del mio intervento di dover chiedere al Governo, al Sottosegretario Bobba, di affrontare questo lavoro, che sarà il lavoro dei prossimi mesi, continuando a tenere aperto, anche nella prossima fase, quel confronto costante e costruttivo con gli enti del terzo settore e con le varie organizzazioni di rappresentanza del mondo del terzo settore, che in tutta questa fase che abbiamo alle spalle ha dimostrato di dare ottimi frutti. Grazie. La ringrazio. Adesso il collega Antonio Palmieri. Prego. Grazie Presidente. Credo che, innanzitutto, voglio dare una buona notizia, non userò tutti i 30 minuti che mi aspetterebbero, riservandomi di fare di meglio di più quando discuteremo del provvedimento di una cornice più adeguata, cioè con l'aula piena, ma soprattutto con l'attenzione dei media puntata su questo settore che, ha ricordato il collega Beni, il Premier ama definire non il terzo ma il primo, lo ama definirlo così tanto spesso che più volte aveva annunciato delle date di scadenza e di chiusura di questo provvedimento, invece io sono stato facile profeta quando nell'aprile dello scorso anno, chiudendo il mio intervento qui nella Camera, aveva preannunciato tempi molto più lunghi, come in effetti si è stato, per un provvedimento che sia la relatrice Renzi, che i collega Beni hanno ricordato, appunto, ci ha tenuti impegnati per molto, molto, molto tempo. Questo è un testo blindato, perché ci torna dal Senato profondamente modificato, io esprimo la mia totale solidarietà politica e umana ai colleghi che mi hanno preceduto, perché avrete letto tra le righe e i loro interventi una certa dose di delusione e di rammarico, perché rispetto al lavoro che è stato fatto in questa Camera, loro hanno dovuto subire pesanti interventi nell'altra parte del Parlamento, frutto essenzialmente di quello che è il tema di questa legislatura, che è la capacità del Partito Democratico di reggere di fronte agli stress. E quindi, dovuto, questo mi sembrava doveroso dirlo, appunto, mi non lo confronti, anche nei confronti del sottosegretario Bobba, ovviamente, che non dimentico nel mio intervento, i punti, dicevo, il lavoro che ci è tornato dal Senato ha ridotto, purtroppo, un po' di quei punti positivi che avevamo consegnato ai senatori con il nostro lavoro qui alla Camera e ha confermato appieno i difetti di questa norma. E i difetti fondamentali sono l'eccesso di delega, io vi invito a rileggere, l'ultima parte dell'intervento non ne volevo i beni, cioè l'eccesso di delega non ciccoscritta di questo provvedimento. Per cui, lui dice, in realtà, la mia interpretazione è questa, ma non di lui, ma della realtà, sostanzialmente come sarà in realtà la riforma del terzo settore lo scopriremo solo vivendo, nel senso di attendere questi decreti attuativi che l'onorevole Lenzi ha definito molti e complessi e i quali il Governo è appunto atteso nei prossimi 12 mesi. L'auspicio è che non facciano la stessa fine dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione e che quindi realmente si stia nei 12 mesi che sono previsti da questa norma che approveremo all'indomani credo il primo turno delle elezioni amministrative e perché realmente, allora lì sì, avremo appunto la cartina di Tornasole, la prova dei fatti, la prova del 9, di quelle che sono le reali intenzioni del Governo, perché di fatto non le conosciamo. Abbiamo dato una serie di paletti, certamente, ripeto, alcune cose positive ci sono, però la sostanza ci è ignota. Aggiungo il tema tra i limiti, confermati anche in questo passaggio al Senato, pure appunto ricco di tante modifiche, la scarsità dei finanziamenti, per esempio quelle che riguardano il servizio civile universale, e poi c'è questa novità dell'Iri del Sociale, la Fondazione Italia Sociale, che è stata anch'essa annunciata più di un anno fa, annunciata da colui che la guiderà dando appunto questo nome a questa nuova realtà, Iri del Sociale. Credo che nel 2016 rievocare l'Iri sia, insomma, quantomeno, diciamo così, un po' anacronistico, la speranza che non faccia, come lo stesso Don Evole Begni ha detto nel suo intervento, non faccia come la vecchia Iri, cioè non si sostituisca al protagonismo delle tante realtà del terzo settore, immaginando per lo Stato un ruolo di giocatore in campo. Questo contraddirebbe quel principio di sussidiarietà che è la cosa che a noi di Forza Italia sta molto a cuore e che ci consente di stare in questo dibattito a pieno titolo per quanto fatto dai nostri governi dentro appunto un avvio di sussidiarietà vera. Io cito rapidamente i provvedimenti come la legge del buon samaritano che abbiamo recentemente novellato con la normativa che abbiamo approvato in questa Camera sul, diciamo, il buon uso degli scarti del cibo. Cito ovviamente il 5 per mille che per tutti ormai è un dato acquisito. In questi giorni noi vediamo le campagne di promozione e di pubblicità di tutti degli enti grandi e piccoli per accappararsi questa forma di finanziamento di questa forma di democrazia fiscale ma il 5 per mille l'ha inventato il governo Berlusconi. Cito la più dai meno versi del 2005 che è tra le cose che dovrebbero essere riviste se ho ben capito la delega dentro questa legge delega ma che era una forma anche quella di straordinaria democrazia fiscale perché difiscalizzava gli investimenti fatti dai privati e dalle imprese a favore del terzo settore. Io spero che questa fiscalità non venga toccata. Cito il provvedimento di origine dell'impresa sociale che aveva semmai il difetto opposto a questo provvedimento era anch'esso una legge delega del 2005 ma era una delega talmente circostanziata che di fatto la delega ha ripreso quasi pari pari il testo della norma delega e infine la normativa per le start up a vocazione sociale che abbiamo approvato durante il governo Monti con il nostro concorso per cui noi stiamo come Forza Italia a pieno titolo in questo dibattito perché appunto abbiamo dimostrato con i fatti che il terzo settore è il primo ma non dando allo Stato appunto un ruolo di giocatore in campo bensì riconoscendo ai cittadini il compito di scegliere e selezionare le realtà che volevano incrementare che volevano sostenere la loro iniziativa e al tempo stesso alle realtà dando la possibilità di poter giocare il loro ruolo da protagonisti nella società nel modo migliore possibile mi avvio a concludere mi avvio a concludere con un suggerimento di lettura io vi segnalo un libro che è uscito all'inizio di questo mese di maggio di Paolo Venturi e Fabiano Zandonai che si chiama Imprese Ibride Modelli di Innovazione Sociale per Rigenerare Valori e faccio una piccola citazione di questo testo che non è solamente un invito così è un consiglio a lettura io non ho ovviamente nessun tipo di conflitto di interesse non conosco nemmeno a parte conosco Fabiano Zandonai quindi è un consiglio totalmente disinteressato ai colleghi del Partito Democratico ma mi permetta Presidente soprattutto ai colleghi di Movimento 5 Stelle e ai colleghi di Sinistra Italiana perché lo dirò dopo faccio questa piccola citazione il libro appunto tratta di questo progetto di mutamento che sfida le categorie politico-culturali più consolidate della modernità cioè pubblico e privato individuale e collettivo produttivo e sociale questo libro dimostra come questo dualismo queste dualità sono in realtà in via di trasformazione stanno modificandosi stanno contaminandosi tra loro l'impresa sociale diciamo così del 2016 del terzo millennio è l'impresa che va in quella direzione lì è la capacità di allargare da un lato il concetto di sussidiarietà dall'altro lato anche di allargare il concetto di profitto è la capacità di riconoscere che davvero è pienamente pubblico e servizio non soltanto chi lo eroga è quella capacità per le quali noi abbiamo anzi voi nella legge di stabilità avete accolto la norma che mette capo in Italia per la prima volta alle cosiddette benefit corporation è il tema il grande tema della finanza impatto sociale con tutte le valenze positive che questo comporta appunto in una ibridazione di pubblico e privato di profitto per chi investe in un'iniziativa che ha una ricaduta sociale tutto questo porta con sé il grande tema della misurabilità degli interventi e impatto sociale e su questo nuovamente il testo non ci dà il testo della norma che stiamo discutendo non ci dà delle risposte chiare anzi al Senato da questo punto di vista a mio giudizio si è fatto un piccolo passo indietro proprio per i motivi che ho detto e per questo dicevo consiglio a tutti la lettura di questo libro cioè l'approfondimento di questo concetto lo consigliavo dicevo in particolare ai colleghi e alle colleghe del Movimento 5 Stelle ai colleghi e alle colleghe di Sinistra Italiana perché questo consentirebbe loro di uscire da quella visione statalista che tra l'altro obbliga pezzi del PD a vergognarsi delle buone norme che esso approva e quindi è veramente un peccato e al di là delle battute in realtà il superare una concezione che lasciatemi definire arcaica della concezione di ciò che è pubblico della concezione di quello che è il ruolo dei privati nella società quei privati che voi spesso chiamate appunto privati con una forma di disprezzo nel nome mentre per noi sono cittadini che insieme o in forma associata decidono di farsi calico di un pezzo di bene comune allora Presidente chiudo davvero noi nel primo passaggio alla Camera abbiamo dato un voto di benevolo astensione rispetto a questo provvedimento per incoraggiare appunto la maggioranza in una strada soprattutto culturale di mutamento di prospettiva che sembrava avere intrapreso studieremo ancora di più nel dettaglio il provvedimento ascolteremo soprattutto come il provvedimento viene interpretato dalla stessa maggioranza per poi definire l'atteggiamento da tenere in sede di voto finale però appunto consapevoli del fatto che anche in questo campo non possiamo più pensare che le cose stiano come sono sempre state questo tempo che stiamo vivendo non è un tempo in senso generale di crisi ma è un tempo di travaglio non nel senso del marco ma nel senso del parto per cui non è possibile pensare di tornare a come eravamo prima non è possibile di ragionare in termini di terzo settore e di utilità sociale o di interventi che abbiano impatto sociale con le vecchie categorie dell'ottocento e del novecento per questo io spero che dal dibattito che avremo in quest'aula si possa avere almeno un passo in avanti in questa direzione che sia uno strumento di pungolo soprattutto la parte della maggioranza rispetto al lavoro di composizione dei decreti attuativi che il governo è chiamato a fare nei prossimi dodici mesi e decreti sui quali anche noi vogliamo essere attivi e vigilanti anche noi in rapporto con le realtà del terzo settore singole e associate che in questi anni di discussione e provvedimento non hanno fatto mancare di sentire la loro voce ecco per questo motivo io concludo auguro a tutti un buon pomeriggio di lavoro e la rivederci a quando avremo il dibattito in aula grazie buon lavoro anche a lei la collega Binetti prego presidente gli ultimi membri del governo colleghi presenti in quest'aula in cui è già cominciato il dibattito vero per dare risposta all'amico e collega Palmieri giunge oggi in aula il disegno di legge di delega al governo per la riforma del terzo settore dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale era stato approvato alla Camera ad aprile del 2015 quindi giusto appunto poco più di un anno fa mentre il Senato ne ha concluso l'iter il 30 marzo 2016 non c'è dubbio evidentemente alla Camera lavoriamo più velocemente più concretamente di quanti non siano i tempi che si prendono al Senato vedremo quindi la prossima legislatura che cosa ci riserverà a questo proposito però il testo che è arrivato oggi è un testo blindato e